Sappiamo che Fismet Service dispone di una open house con impianti sempre a disposizione del cliente per prove pratiche. Ma in che modo questo contribuisce alla ricerca e allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologicamente avanzate per migliorare i parametri di pulizia? Proprio per ottenere i risultati che ho accennato prima, per capire meglio le problematiche dei clienti, che vivono quotidianamente i clienti utilizzando gli impianti di lavaggio, lavando i loro pezzi, abbiamo ingrandito il nostro laboratorio di ricerca facendolo diventare un settore, un lavaggio conto terzi. Ovviamente abbiamo affrontato i problemi più difficili che ci proponevano i clienti, quelli che non riuscivano a ottenere determinati risultati. E questo ci ha fatto vivere le stesse problematiche, le stesse difficoltà, ci ha fatto capire che su un impianto il problema più importante e più difficile è la gestione, tenere sotto controllo le temperature, le qualità, i parametri, le filtrazioni. E' una cosa determinante che soltanto i clienti che usano questi macchinari poi vivono. Noi abbiamo vissuto in prima persona queste situazioni che ci hanno consentito proprio di ottimizzare e suggerire queste soluzioni agli impianti nuovi che noi suggeriamo ai nostri clienti. Ovviamente ci siamo dotati anche di strutture che ci aiutano un po' a raggiungere gli obiettivi e a determinare quali sono gli obiettivi. Quindi abbiamo, oltre che generato il lavaggio conto terzi, quindi possiamo affrontare, prima di suggerire un impianto, qualsiasi problematica dei clienti. Abbiamo dotato la nostra società di una camera bianca classe 100, dove andiamo a lavare dei pezzi che hanno una destinazione tipo sanitario o tipo aerospaziale. Abbiamo dotato una camera bianca per controllare i risultati dei nostri processi, per verificare la tipologia di sporco residuo che rimane comunque sui pezzi. Per cui abbiamo intitolato il nostro intervento alla ricerca del pulito assoluto e come sottotitolo il lavaggio che non sporca.